Ecco sono qua l'ultimo dei paninari Siamo rimasti in pochi, siamo dei casi rari Ecco sono qua l'ultimo dei paninari Forse non è logico il caso patologico Un sereno a tutti i pannozzi di ieri e soprattutto di oggi In particolar modo ai sostenitori della mia pagina ufficiale Paninaro di Facebook Eccoci ritrovate a un'edizione speciale di Bircide Panino News Quest'edizione è speciale in quanto domenica 20 dicembre A partire dalle ore 15-15.30 circa Presso l'hamburgeria di Italy a Torino in piazza Solferino 16A Zona centro per chi non è pratico della città Siterà uno storico evento mai visto prima Raduno Paninari e Sfitinze a Torino Sarà un modo per incontrarci in un ambiente accogliente E' legato strettamente a quell'atmosfera magica che si respirava negli anni 80 Saremo in pieno clima natalizio con tanto di musica ed allestimento a tema I menù e gli hamburger saranno denominati in ugual modo allo storico fast food burger Proprio come accadeva negli storici anni 80 Come si svolgerà l'evento? Vi saranno oltre ai paninazzi da spararsi giù dritti belli nel gargarozzo Anche la proiezione pubblica dei film Il Ritorno dei Paninari ed Il Ritorno dei Paninari 2 Integrati dalla musica in 80 con tanto di DJ alla console Vi aspettiamo numerosissimi Il locale è anche attrezzato con un'area bimbi Per cui se avete galletti e freppine sono ben graditi Ah, dimenticavo Chi si presenterà con un ferro giusto agli 80 sia a due ruote che a quattro ruote Riceverà un simpaticissimo omaggio Termina qui questa edizione speciale di Bircide Panino News Mi raccomando, continuate a seguirmi al mio canale di Youtube Bircide E su Facebook alla pagina ufficiale Paninari Abbigliamento Un cordiale e sereno saluto a tutti i paninari d'Italia E a quelli sparsi nel mondo Let's go! Ecco sono qua l'ultimo dei paninari Siamo rimasti in pochi, siamo dei casi rari Ecco sono qua l'ultimo dei paninari Forse non è logico il caso patologico Grazie a tutti!